Signori benvenuti in questo nuovo episodio del Todo Show Oggi andiamo ad aprire i premi della VL di questa settimana Ma prima mandiamo la sigla Eccoci qua signori Pronti per questi nuovi premi Ma prima andiamo a vedere un po' come la squadra Perché ho cambiato qualcosina In realtà è ancora in È ancora un cantiere questa squadra Non so ancora bene chi tenere, chi buttare, chi vendere E come giocare, con che modulo Abbiamo ricambiato il modulo Abbiamo un 4-1-2-1-2 In porta ci siamo presi Andanovic, 90 Totti Abbiamo preso Diogo Dalotte Abbiamo spedito in orbita il nostro caro amico Hakimi E poi vabbè ci siamo presi Mi sa che non l'abbiamo visto nel scorso episodio Milinkovic, Savic Lorenzino in signe E poi abbiamo fatto Cioccaput nella sfida Che dire, questa è la squadra Da cui vabbè abbiamo trovato Marcello nel pacchetto Con il what if garantito Esce pure salito a 90 Però non ce la facciamo niente Scrivetemi nei commenti Secondo voi con cosa potrei andare a linkarlo Per poterlo utilizzare Ma io direi, bando dai cianci Devo prenderci questi premi Anche perché devo decidere in diretta Cosa fare con qui del Rivals 50k Non farebbero schifo 50k non farebbero schifo Perché siamo arrivati Abbiamo fatto il massimo Quindi il premio sarebbe Appunto 52k Però abbiamo l'opzione 2 Pacchetti giocatori oro prime Pacchetto omega Pacchetto oro rari E dobbiamo con questi 3 pacchetti Riuscire a rientrare In 52.000 crediti Non lo so Rick Mi sa che andiamo sulla sicurezza Ma no, ma no Se non rischia la vita Che cazzo Puoi andare a fare Assigno Ci prendiamo l'opzione 2 Con gli scambiabili Namo e dagli Anche oggi ci crediamo Un bel walk out Vogliamo questo George Best Signori E mo andamo a prenderci Vabbè, questi buoni In cascina Andamo a prenderci I premi Della VL Purtroppo Anche questa settimana Signori Eccolo qua Oro 3 Purtroppo La corsa Verso la top 200 Mondiale È lunga È tanto lunga Però noi piano piano Ci lo aggiungiamo Già in questo pacchetto Ci serve un insignio Cioè in questi picchetti Un insignio 88 Gradevole Vabbè 30k Le mettiamo in tasca E siamo Ecco i picchetti Lo guardo in faccia Lo guardo in faccia Sto picchetto Shakeriamo Non so ancora Shakerare 2 3 4 5 Andiamo Dammi il signe Banno Banno Che schifo Che schifo il mio picchetto Dammi il signe Ole Ole Che picchetti De merda Signori Che picchetti De Aggiore Che Era buono La scorsa Altro che Un 86 Oggi c'ha dato un 82 Che schifo è Ma vaffanculo Andiamo a spacchettare Sti pacchetti Signor Ci siamo Eccolo 6 pacchettini 6 pacchettini Walkout Ce lo dai Walkout Ce lo dai Io direi di iniziare Subito Abbiamo 3 mega Un pacchetto Giocatori rari Un pacchetto oro rari Un pacchetto giocatori oro prime Namo signori Pacchetto giocatori oro prime Dammi walkout Dammi walkout Dammi walkout Dammi walkout Dammi walkout No walkout Beh Vabbè al primo Bandierina Ce la dai per ridere Bandierina Cicci E che c'è dai E chi sei Banega 83 Vabbè Non sputiamo Sopra le bandierine Dobbiamo fare 52k Minimo Da questi pacchetti Vabbè Direi che Vediamo sotto Non c'è nessuno Beh Usciamo dal negozio Per sbagare Perché ci serve un walkout E soppremo un pacchetto omega Un pacchettino omega 18 orari Namo Come on signori Come on Daccelo un walkout Ce lo meritiamo Ce lo meritiamo Signor Ce lo meritiamo Walkout E daccelo Bandierina Portogallo Cicci Cicci Wolvis No Qualcosa Come il Rafa No Giamutinio E vabbè Un altro 83 Non sputiamo Non sputiamoci sopra Almeno è bandiera Almeno è bandiera Cos'è questo signor? Un pacchetto oro Abbiamo trovato Vabbè Non è male Questi sono 7k E noi lo apriamo Perché ce lo dà Adesso ci devo walkout Non lo guardo questo Cos'è? Mi sa che è nemmeno bandiera Vero? No Vaffa Occupate la regio Era forte quando Giocava la fiore Forse Non mi ricordo E vabbè E vabbè Sono rimasti 4 pacchetti No Pacchetti oro rari Pacchetti oro rari Daccene un walkout Uno Daccene un Dacci un giocatore Un giocatore Ma ancora Una bandierina Ce la dai Nemmeno bandierina Ma Faffanculo va Il 52k Signori Prendeteli Noi pacchetti Noi pacchetti Noi pacchetti Usciamo per sbaggare Usciamo per sbaggare Speriamo Adesso ci apriamo un mega Ci apriamo un mega Dai No walkout Non dirmi di nuovo No Chi è? Argentina Attaccante Ma chi sei? No Il Pipita Il Pipita Seguai in Che schifo Che schifo Signori Che schifo Daccene uno Buono Daccene uno Buono Signori Stanno davvero Molto molto male Stanno davvero Malissimo Giocatori Pacchetto giocatori rari Anche questi premi Della VL Della VL Fanno schifo Alla morte Ma adesso non guardo Guardo a voi Perché so che sarà un walkout Sarà un walkout Non lo so Mi sa di nuovo No Non è walkout Hakimi Non è walkout Hakimi Signori Questi sono i nostri pacchetti Mamma mia Hakimi Lo vendono a 500 Tra un po' Che tristezza Che tristezza Che tristezza Vabbè conserviamo tutto Signori Siamo arrivati all'ultimo pacchetto Zero walkout In sei pacchetti Ma che si fa Lo guardiamo in faccia Lo guardiamo in faccia Questa non walkout Lo guardiamo in faccia Non walkout Che schifo Non ci voglio credere Signori Brasile COC Talisca Ancora Talisca No Chi è Oscar Un altro 83 Mamma mia Signori Che vergogna Che vergogna Zero walkout Zero walkout Anche ieri Mi sono messo Ad aprire qualche pacchettino Zero walkout Pure ieri E non c'è Neppure nessuno Di buono Non c'è Neppure nessuno Vediamo questo Hernandez Ma non penso valga a nulla Cosa vuol che valga Signori Questo è davvero Un episodio triste Questo è davvero Un episodio triste Volevo farmi anche qualche partitina Ma Ma davvero 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 Uno schifo Oggi Che dire Che dire Non siamo Abbiamo ancora La nostra prima icona Vabbè che Abbiamo iniziato Da meno di un mese All'incirco Sì Meno di un mese Quindi non è che possiamo pretendere Nemmeno tanto Questa qua è la nostra seconda WL Pesso ci premiasse un po' Il gioco Tipo della serie Dai continua a giocare Ti diamo un George Best Anche Medium Anche Medium Signori Ci saremo accontentati E invece Ci ha dato Oscar Banega E non mi ricordo Ah Kimi Mamma mia Kimi L'abbiamo venduto L'altro giorno Pure 86 Che schifo Mi sta avvenendo No Meglio di no Volevo spendere 95.000 credit Che abbiamo Per pacchetti Ma dopo questo Champion No Dopo questo Champion No Zero walkout In tre pacchetti Mega In due pacchetti Giocatori rari Ma come si fa Signore Ma come si fa Davvero triste Davvero triste Vabbè Ci rifarmo Semana prossima Mai buttarsi Giù di morale Sperando di fare Almeno Euro 2 E Euro 1 Dobbiamo riuscire a scalare Questa classifica Almeno dopo un mese Voglio salire Almeno Una divisione Siamo così Non ho idea Vabbè Detto questo Signore Chiudiamo quel video Come ho detto Non porterò la partita Però se vi va E se vi può interessare Porterò la partita Della mia WL Anche qua su Youtube Scrivetelo nel caso Nei commenti Così mi date Qualche input Capisco se vi potrebbero Interessare o meno E nulla Se a questo video Ti è piaciuto Condividilo col mondo Ma in ogni caso Sia che ti sia piaciuto Sia che non ti sia piaciuto Ci vediamo presto E da tutto Passo E chiudo Signori Verso Nuove E più belle Avventure Sia piaciuto Grazie a tutti.